Eccoci qua ragazzi bentornati nel canale di Danix Torniamo con WRC 5 Allora andiamo un attimo a cambiare le opzioni di difficoltà degli avversari Eravamo a medio come vedete Proviamo a passare a difficile Dai proviamo poi c'è esperto ma prima vediamo difficile Andiamo un po' così di grado in grado Adesso proviamo difficile Eravamo a medio Stiamo abbastanza vincendo senza problemi tutte le tappe nella carriera a medio Quindi proviamo a difficile dai tanto per vedere se riusciamo a gestire il loro ritmo Allora il prossimo rally No Andiamo direttamente alle tappe Dovrebbe essere non mi ricordo Forse Spagna No Il Corsica Il rally di Corsica Il rally di Corsica è anche difficile Tra l'altro Un circuito Tappe piene di coro Non ricordo Il rally di Corsica è così Tra l'altro subito tre tappe nel primo giorno Subito Ok siamo a difficile ragazzi Vediamo se Ah però mi ha messo solo Un flash Perché è solo un rewind Quindi mi ha diminuito anche il rewind Mettendo Penso che Non so se poi la difficoltà è quella Oppure anche gli avversari vanno più forti Adesso bisogna vedere Vabbè Comunque stiamo provando Adesso facciamo tutte queste tappe così A Difficoltà difficile Per vedere anche se Riusciamo a stare al loro passo Tanto abbiamo un buon margine di punti In campionato E' il momento di provarla Questa Questa difficoltà ha Difficile Allora rally di Corsica è un rally che ho sempre odiato Di giochi di rally Mi è mai piaciuto perché è strappieno di coro E soprattutto tornanti Tornanti ovunque ci sono Tutto su asfalto però non mi è mai Ha tirato più di tanto il rally di Corsica Ma diciamo che il rally proprio di Dove c'è l'asfalto non mi sono mai Ok non mi sono mai piaciuti perché Ci riesco allo sterrato L'ho già detto Sempre preferito Ah lunghi Ok Occhio cartello tutto Paletti Sì però non dire una curva Al secondo Anzi neanche Molto più veloce Cioè dice Indicazioni Che non siamo arrivati ancora nel tratto che ci dice Cioè proprio le dice in una maniera veloce Che non si capisce nulla Ma infatti comunque Alla fine non è che lo stia ascoltando più di tanto Mi baso sulle indicazioni che compaiono a scherma Perché Il navigatore o parlo o ascolto il navigatore Quindi sinceramente Giochi di rally così Cioè Chiede concentrazione però Cioè il navigatore che Deve essere sentito Per guidare bene Vediamo un po' Il primo giorno subito Tre tappe Tre tappe Difficile da fare Ecco Ma iniziano a ritornanti Te pareva Vai di tornantoni Dai che queste sono curve facili E voglia facile Non gira appena una cepa la macchina Dai che stiamo per arrivare Anche questo settore Fatto No non mettetemi Lunghi lunghi Ai La manetta qua Ultimo tratto Vediamo se siamo primi Secondo me siamo ultimi Il sicuro Adesso abbiamo aumentato La difficoltà Ecco il tornantone Sicuro siamo ultimi Ci scommetto Ok Iniziano 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 Uno dietro l'altro Proprio Uff Ma arriviamo anche un po' Troppo stretti Piano 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 Ecco vediamo un po' Secondo me è malissimo Non siamo andati Ci scommetto No non è vero Per niente Primi Prima difficoltà Difficile Adesso io non so se Aumenta la difficoltà Rally delle 10.000 a coro Ecco perché appunto E' strappino di coro Rally di Corsica E dicevo Adesso io non so se Mi ha diminuito Solo il rewind Da 5 Adesso a 1 Oppure anche la difficoltà Delle avversarie Perché comunque Sono riuscito a stare Primo ugualmente Per ora Poi non so le altre età Poi comunque Primo Di un decimo Mi sa Ok Qua siamo andati Proprio a sbattere In pieno Ah no E vedete quello che odio Nel rally di Corsica Sono i tornanti Cioè ne è uno Sempre dietro l'altro Come se dobbiamo Scendere da una Maledetta montagna Strapiano di tornanti Questo da La torrelli Uff Piano 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 Dai che c'è Ci stiamo comportando Bene Comunque Cioè Il trucco Per vincere Il rally E non danneggiare La macchina L'ho sempre detto Perché Ci sono tappe In successione Che se poi Danneggi la macchina Per esempio In una tappa La successiva E la macchina distrutta E vai giustamente Più lento Quindi L'unico modo E non danneggiare La macchina Ma nello stesso tempo Essere Veloce Noi abbiamo Solo danneggiato Le pneumatici Giustamente Saranno usurati Però Poco ci interessa Li cambiamo Come niente Quelli Ma se iniziamo A rompere Motore Cambio Frizione Cetera eccetera Sospensione Buonanotte Roll Ci stiamo buttando Tutto Dai 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 Uh Quelli vuol lungo No Si un pochino Si abbiamo Leggione Paraurti Posteriori Si va Mamma mia Qui E l'ho vista Proprio contro Il Mureto Là Ok Adesso iniziano Un po' le curve Toste In successione Occhio qui Occhio qui Plena di brutto Quando ci sono le curve Indicate in rosso Perché Vorrei fare danno Ok Muretti Muretti in pietra Occhio Poi le sospensioni Abbiamo Giammotte Danneggiato Cercando di tirare Il più possibile Uh Uh Larghi 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 Manetta Questa manetta Buttati Buttati Occhio A quella pietra Vai Alberi Alberi Bastardi Vai Anche questa È fatta Ok Abbiamo gomme Michelin Ancora primi Di un secondo E quattro Ragazzi Direi che Lasciamo benissimo La difficoltà Difficile E poi c'è esperto E poi se Passiamo anche esperto Vediamo Per il momento Stiamo riuscendo a vincere E già mi va bene Vecchiala Te pareva Dobbiamo fare Una stupida Tappa Notturna Le odio Un po' Queste Notturne Sinceramente L'ultima Tappa Del giorno Quindi Dobbiamo Vestire Il gap Che abbiamo Sul secondo In classifica Un pochino Se riusciamo Ehi Lunghi 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 Vai Vai Come ormai Sono un po' Distrutte Ho fatto tre tappe Successione Con questi pneumatici Assolutamente Da Cambiare Cioè rendetevi conto Se lascio queste Questi Queste gomme Per le tappe A venire A proseguire Cioè Girerebbe niente La macchina Su Destra 4 A foto Su Sinistra 3 Più Per destra 3 Meno Breve In sinistra Piano Questo parla Un po' Meno Ragazzi Perché Quando in notte La La guidabilità È un po' Più difficile Per fare danni Eh Sinistra Più Su Sinistra Piena Sinistra Piena Sì Dai Esci dall'erba Ah no Aspetta Dov'è Qui Sì Certe volte Non la vedo Proprio La curva Valo Non fa nulla Eh Non è più Rapida La macchina Abbiamo le come Molto Usurate Non si riesce Più A Essere Rapidi Nelle curve Vai qua Piano 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 Comunque Certo che Certo che aiuta Questo Visuale Dal Cofano Sicuramente Forse è la migliore Secondo me Per i giochi Di rally Quella Dal Cofano Ti fa vedere Le curve Molto Bene Sicuramente La migliore Certo che Comunque Volevo provare Quella All'interno Ma Bruttissima Sinceramente E' brutta Nel senso Che non vedi Neanche il volante Non so perché Piano Questa l'avevamo già fatta Me la ricordo C'era questa curva Lunga Sì Praticamente Vi andiamo a ripetere Un po' Le stesse Setup Però Con Un po' Diverso orario Adesso E' proprio buio Tutte curve rapide Ce la facciamo In sesta Più o meno Quinta Attenzione Qui lunghi Sì Ma la ricordo Era praticamente Questa curva qua Adesso ci dovrebbero essere I tornanti Ma anche Non è vero Lungo Lungo Tornante Sì Abbiamo le gomme Distrutte Non ha più accelerazione La macchina Proprio L'uscita di curva Lentissimo Avevo ragione Io che queste Sono Tappo Già fatte Vai dai che siamo Arrivati E anche questa È fatta Ragazzi Vediamo se siamo Primi Sì Di 6 decimi Va bene Abbiamo 3 secondi Da gestire Comunque Già il primo giorno Più a primi Ce ne ha altre 3 Da fare Quindi direi che Ce le facciamo Tutte Guarda le gomme Rosse Sono Mamma mia Rele di Corsica Mangia di brutto Le gomme Tutto curve Poi c'è L'asfalto Le mangia molto Infatti c'era scritto Rele di Corsica Delle 10.000 curve Più tornanti Che dritto Almeno torna La luce Abbiamo 3 secondi Da gestire Sulla seconda In classifica Generale U Mamma mia Non so come ho fatto Di attenere la macchina Queste Stiamo facendo Nel mattino Non è un sole Molto Forte Piano Comunque vediamo Se poi ci arrivano Contratti Per altre categorie Che se comunque Se vinciamo Il campionato Probabilmente Arrivano già team Abbastanza buoni Da offrirci Contratti Perché Ci notano Vincendo il campionato Saliamo di Di Categoria di esperienza Adesso vediamo Non so quante Rally Mancano ancora Per finire Questo campionato E sono tanti Comunque Rally Non sono pochi Su destra Tre più Su sinistra Due Lungo Ah no Dai che stiamo andando bene Qui qua L'ha Lungo Lungo Su destra Piena Ino sinistra Due E vabbè Dinne una in più Di cura Mamma mia Ne ho detto tre In un Secondo Cosa che io odio Nel gioco di rally Quando il coppilotto È veloce Siamo di avere le indicazioni Taglia Taglia Tieni Taglia Vedi Giditi Questa è una tappa lunga Siamo già Niente a mettere Siamo già Due minuti Quindi È lunghetta Questa Sì è lunghetta Questa Piano Corva pericolosa Pensavo peggio Comunque Sinceramente Sto rally di corsa Pensavo che comunque Era più Complicato Del previsto Invece no Mi sto trovando Anche bene Come ho detto Non mi piace molto L'asfalto Nei giochi di rally Però Che comunque C'è sempre questa Poca aderenza Però come ho detto Le gare da rally Sono ovunque Nei tipi di Sterrato Asfalto Neve Ghiaccio Bango Viaia C'è un po' di tutto Sabbia Dai questa Bomba Che sono tutte Correre rapide Dai piano Qua però Mi chiamo Muretto di pietra Che cattivissimo Ma stiamo scendendo Da una montagna C'è un mare Qui A fianco C'è il mare Qui a fianco Manu Salto Piano Ok Ok Ah palo 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 Merda Qua ci fa Ci gioca Alla tappa Qua Questo errore Ci gioca Alla tappa Sicuro Si e noi Abbiamo perso Un secondo Vediamo un po' Eh abbiamo fatto Un errore Lunghi Siamo arrivati La Vediamo un pochino Abbiamo fatto Tutto bene Tranne lì Un occhio Agli alberi Qua Si gli errori Non sono ammissi Nelle tappe Guarda che qua Lungo Maledizione Non vedo niente Vabbè Praticamente Alla fine Abbiamo fatto Errori Qua Vediamo un po' Abbiamo anche un po' Daneggiato la macchina No vabbè Ancora primi Di un secondo e quattro Vabbè Pensavo Che andavamo male Alla fine Andiamo a fare Che la quinta Di tappa E basta E basta Questa è di notte Ma che rottura Eh questo Ma che cosa è Ma proprio le odio Questa è notturna Pure stretta Guarda qua Credo che comunque Appena danneggi Un po' La macchina Diventa un cattorcio Veramente Cioè non va più forte Cioè guarda qua Pure in quarta Non è neanche a centro Sti cazzo Dei tornanti Riesce una ceppa Dove devo andare Gira Gira Più che strada Questa non è una strada Questa Sembra cemento Perché è veramente Un asfalto Pessimo Come condizioni È veramente Tutto Spaccato Tutto secco Quello che mi preoccupa È Fottuti I paletti Piano Anche questa è pure lunga Mica sono brevi Questa etapa No Piano qua Piano Piano Ok Ok Torniamo a girare Piano Perfetto E dinne una più lenta Di coro Mamma mia Ne dice Quattro Non so Manca arrivato Dove stai Dici una Delicazione Comunque Non so come fanno Nella realtà Ma non penso Che le dica Così veramente Rapide Un copirota Nelle gare da rete Perché Cioè veramente Le indicazioni Le dice Troppo rapide Non si capisce Nulla Come fa Il pilota A sentire Quello che le dice Nelle indicazioni Dove fare Le curve Eccetera Ne dice Quattro In un secondo Di cose Non si capisce Niente Infatti Comunque Non è che Lo ascolti Più di tanto Io Perché Più che altro Guardo Le I simboli Che compaiono Perché almeno Lì Capisco Quando è rossa Che è una curva Pericolosa Quando è arancione Un po' così Ma Cazzo di curva È tutta Lente Dai che queste Sono Tornanti Schifosi Vira Che ha le pietre Qua Laterali Vai Ecco Ma secondo voi Cosa da capire Cioè ne ha detto 50 di cose Ma che cose Tieni Molla Tieni Taglia Ma Deciditi Cristo E taglia Allarga E stringi Beh Primi comunque Dai Va bene Cosa Andiamo a fare L'ultima E direi che ci salottiamo Anche Ultima Tappa Del rally Di corsico Va Ah no 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 Ferma Ferma Che stai facendo Qua dobbiamo riparare Che se no Fanno danni Ci giochiamo Il rally Nell'ultima Tappa Che siamo Pazzi Qua Ripara di brutto Che è un cattorcio No Qui perdiamo tempo Allora lascia così Sì Vabbè La carrozzeria Non ce ne è Prega niente L'importante è il motore Perdevamo troppo tempo Avevamo fatto danni Eccessivi Tanto comunque Siamo avanti Di pochi secondi Ma siamo avanti Abbiamo un po' La carrozzeria Un po' Ammaccata Ma va bene Sia il parruzzo Anteriore Che il posteriore Sinistra 5 Chiuso Anzi più che altro Il cofano Comunque ultima tappa Di questo rally Di Corsica Di Francia Perché comunque La Corsica Appartiene alla Francia Non so se L'hanno fatto Ad agliaccio Questo rally Di Corsica Può essere Ma questa è una tappa breve Dai Ce la facciamo Pochissimo tempo Lunghi Piano Metti la marcia In grana Sicuramente Favorisce Avere qui In questo gioco Di rally Volante E marcia E manuale Perché poi è sicuramente Più veloce Sicuramente Marcia automatica E comunque È sempre un po' più lento Rispetto al manuale Poi comunque Con un volante Aiuta di più Però Infatti Viene anche con un joystick Va Qui nelle strade Di campagna Della Corsica Andiamo a concludere Anche questo rally Piano Palo Occhio Pali Cartelli Ci sono Alberi Pietre Qualcos'altro Macchine Cassonetti Della spezzatura Che ne avevamo preso qualcuno Finita Un minuto E poco più Abbiamo fatto È molto rapida Questa Primi Assolutamente Sì Vinciamo comunque Il rally Di 9 secondi 4 A difficoltà Difficile Quasi quasi Possiamo fare Anche il massimo Della difficoltà E mettere esperto E buonanotte Comunque direi ragazzi Che ci possiamo Salutare qui Per quest'altro video Il prossimo Mi sa che è l'ultimo Rally Di questo campionato Boh Lo vedremo nel prossimo video Comunque come sempre Commentate Condividete Iscrivetevi al canale In descrizione Trovate la pagina Facebook Twitter Google Plus E noi ci vediamo Alla prossima Saluto a tutti Ci da Danx Zero Siotan Tanova